Cade per tre metri dalla falesia di compito, l'uomo un 55enne è caduto durante un'arrampicata recuperato dai tecnici del SAST e stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Versilia. A Gustavo Velez il premio Pietrasanta, un altro colombiano dopo Fernando Botero, insignito del premio internazionale promosso dal Circolo Fratelli Rosselli, giunto alla sua 33esima edizione. In spiaggia all'ombra delle luci di Natale, prima domenica di novembre con temperature quasi primaverili che hanno fatto sì che molte approfittassero in spiaggia per l'ultima tintarella e intanto in centro è iniziata l'installazione delle luminarie. La Croce Rossa, lezione di moto d'acqua di soccorso. Il Comitato Nazionale ha organizzato una tre giorni a Forte dei Marmi, a cui hanno partecipato i comitati regionali del centro-nord per uniformare i protocolli di soccorso con l'ausilio di questi mezzi. Ben trovati a questa edizione di TG9 Versiglia e Costa Apuana. Un 55enne è stato soccorso dal Sast dopo una caduta di tre metri dalla falesia di compito nel comune di Seravezza. L'uomo è stato poi trasportato in anni soccorso all'ospedale Versiglia. Un 55enne è rimasto ferito a causa di una caduta mentre stava effettuando una arrampicata presso la falesia di foce di compito nel comprensorio del Monte Lieto, nel comune di Seravezza. L'uomo è precipitato da un'altezza di circa tre metri procurandosi un politrauma generico che però fortunatamente non ha interessato il cranio. La centrale operativa del 112 ha dovuto attivare la stazione di Querceta del soccorso alpino-spelologico che ha raggiunto il ferito con un tecnico infermiere per mezzo dell'elisoccorso Pegaso 3. Una volta raggiunto l'uomo, i sanitari hanno provveduto a stabilizzarlo e successivamente a trasportarlo in una zona adatta al suo recupero tramite l'elicottero, recupero che è avvenuto intorno alle 14. L'uomo, che è sempre rimasto cosciente durante tutte le operazioni, è stato trasportato all'ospedale Versiglia. La falesia, foce di compito e una palestra di arrampicata, tra le più frequentate del comprensorio, visto il suo grado di difficoltà non elevato e soprattutto la sua facile accessibilità. E adesso andiamo a Pietrasanta, dove l'Associazione Fratelli Rosselli ha conferito a Gustavo Velez il premio Pietrasanta e la Versilia nel mondo. Ad accomunarli fino a oggi erano le origini, sono entrambi colombiani di Medellin e la decisione di farsi guidare dalla vocazione artistica nella scelta della patria di adozione, che per tutti e due è caduta su Pietrasanta, oltre ovviamente all'amore per la scultura. Da oggi Fernando Botero e Gustavo Velez hanno un'altra cosa in comune, entrambi sono stati insegniti del premio internazionale Pietrasanta e la Versilia nel mondo. Per me è un grande piacere sapere questa storia, che lui è stato la prima persona in ricevere questi premio nell'anno 91 e mi sento veramente orgoglioso di rappresentare anche dopo lui a Pietrasanta nel mondo. Promosso dal Circolo Culturale Fratelli Rosselli, con il patrocinio del Comune e il supporto della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e di Desal S.p.A., il premio è giunto alla sua 33esima edizione e vanta nel suo albo d'oro, oltre a Botero, artisti del calibro di Mitorai e Pomodoro. Velez è uno di questi grandi maestri dell'arte contemporanea, questi grandi maestri fanno conoscere l'artigianato e l'opera degli artigiani di Pietrasanta. Un altro artista dunque che ha scelto Pietrasanta come sua seconda casa. Un artista internazionale fa veramente tanto piacere perché se lo merita tutto e quindi lui sarà un ambasciatore di Pietrasanta nel mondo. Davanti alla platea gremita del Salone dell'Annunziata, dove era presente anche il suo connazionale Ivan Cordoba, ex calciatore dell'Inter, Velez ha annunciato che nel 2025, per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno, realizzerà un'opera monumentale che sarà installata in un parco cittadino, mentre nel 2026 celebrerà i suoi 30 anni di carriera con una mostra personale. Andiamo adesso a Viareggio dove le temperature quasi primaverili hanno invitato tante famiglie a trascorrere la giornata sulla spiaggia, ma intanto in centro si inizia l'installazione delle luminarie di Natale. Mentre nel centro di Viareggio la ditta incaricata dal Comune sta allestendo le luminarie natalizie, sulla spiaggia del Belvedere delle Maschere, famiglie e turisti si godono le temperature più che primaverili di fine mattinata. Estremi che fotografano una domenica d'inizio novembre con temperature decisamente anomale, temperature che, secondo quanto riferito dai previsori del Consorzio Lamma, dovrebbero mantenersi tali anche per il resto della prossima settimana. Esatto, sì. Vediamo come l'alta pressione inizialmente domina il Mediterraneo centrale, tuttavia tenderà poi a spostarsi, sembra, diciamo, tenderà a spostarsi verso nord, richiamando dell'area più fredda che si associa quindi a pressioni più basse in quota, lo vediamo dall'animazione, ecco, l'area più fredda che potrebbe, a partire da venerdì e nel prossimo fine settimana, portare un cambio di circolazione più sensibile, più evidente, diciamo, al centro-sud. In realtà in Toscana dovrebbe cambiare poco se non da un punto di vista termico assisterà a un caldo delle temperature, però a livello di precipitazioni ad oggi non sembra che siano attese particolari fenomeni. Velocemente il metro della Toscana per la prossima settimana. Sereno, poco nuvoloso, con qualche nebbia nelle valli, da segnalare le temperature in lieve calo fra lunedì e martedì, valori intorno ai 17-20 gradi, possibile aumento lieve delle temperature massime nella giornata di giovedì, ma comunque poco cambierà. Gran bella settimana, approfittatene. Uno scenario decisamente diverso da quello del 2023, quando esattamente un anno fa si verificò la storica mareggiata con il vento che spinse il mare fin dentro la passeggiata, causando migliaia di euro di danni. Continua a tenere banco la vicenda delle concessioni balneari. Il sindaco di Pietrasanta, chiamato in causa dalle associazioni di categoria, invita tutti alla calma e confina nel buon senso del vicepresidente Fitto. Se nel 2024 il comune di Pietrasanta non ha rilasciato alcun atto formale, è perché quelli presentati erano incompleti. L'anno precedente, infatti, almeno un paio di procedure erano andate a buon fine. Lo ricorda il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, cercando di fare chiarezza nelle polemiche che dal litorale si stanno levando alla volta della sua amministrazione. Non siamo contrari agli atti formali, ovviamente, devono essere presentati in modo corretto, afferma il primo cittadino, commentando l'istanza che permette ai balneari di ottenere una nuova concessione in base agli investimenti fatti. Una procedura che però Giovannetti definisce un'arma a doppio taglio, in quanto potrebbe innescare una vera e propria gara a evidenza pubblica, con il rischio, per l'imprenditore che l'ha avviata, di uscire soccombente e dunque senza più concessione. Capisco il panico, ma serve calma, con fido e infitto nella sua capacità di trovare una soluzione di buon senso, afferma il sindaco di Pietrasanta, citando il neo, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, e anticipando che, non appena arriveranno gli indirizzi attuativi della legge figlia del decreto infrazioni, attesi per metà novembre, la sua amministrazione procederà con la proroga al 2027 delle concessioni per consentire la predisposizione delle gare. A Forte dei Marmi, nello specchio d'acqua di fronte alla spiaggia libera delle Dune, la Croce Rossa italiana ha organizzato un corso per l'ausilio delle moto d'acqua in soccorso. Una a tre giorni di full immersion nelle tecniche specifiche dell'utilizzo delle moto d'acqua in ambito di soccorso in mare. È quanto organizzato dalla Croce Rossa nazionale e dal Comitato della Croce Rossa di Massa nello specchio d'acqua di fronte alla spiaggia libera delle Dune di Forte dei Marmi. In acqua, sotto la direzione degli istruttori della società Sarda K38 Italia, volontari e militari della Croce Rossa, provenienti da tutti i comitati regionali del nord Italia, che hanno perfezionato le procedure di salvataggio in modo da uniformare gli standard su tutto il territorio. Abbiamo già degli operatori che hanno già utilizzato le moto d'acqua a salvataggio, come chiamiamo noi, le acqua bai da soccorso. La Croce Rossa sta cercando di uniformare queste procedure, questi protocolli, in un protocollo nazionale, che così ci si venga a trovare in una condizione di avere una stessa formazione anche da diversi equipaggi da tutta Italia, come quelli che sono presenti qua. Un mezzo, la moto d'acqua, che negli ultimi anni si è imposto come uno dei più efficaci da utilizzare, soprattutto in scenari come quelli del litoriale versiliese, con alta densità di bagnanti in acqua. Assolutamente sì, la moto d'acqua da salvataggio è un mezzo veramente utile in determinati contesti, spesso è l'unico mezzo che ha possibilità di uscire quando ci sono dei determinati scenari. Il problema più grande però è il limite dell'acqua bike, che è il conduttore. Se non si ha una formazione specifica per questo, la moto d'acqua ti può dare un grosso aiuto se sai come condurla. Devono essere date delle informazioni particolari relative proprio al soccorso e al comportamento di questi mezzi in determinati scenari o condizioni. Adesso andiamo al no di massa perché secondo i dati dell'azienda sanitaria, l'ospedale è quello che registra il maggior numero di partorienti da fuori regione, tanto che le neomamme apuane sono meno della metà. Il punto nascite dell'ospedale delle apuane è uno dei più attrattivi per le neomamme che arrivano da fuori zona. Lo dicono i numeri del Sistema Sanitario Nazionale che assegnano al NOA il record di neomamme in arrivo da fuori regione. Complice la prossimità al confine Ligure, ad agosto di quest'anno, su 788 neonati, 239 avevano la mamma non residente in Toscana. Si tratta del 30,3% delle nascite totali. I dati dicono infatti che solo il 49,4%, ovvero meno della metà dei bebè nati al NOA, ha la mamma puana. E questo perché, oltre agli arrivi da fuori regione, l'11% delle partorienti proviene dalla Lunigiana, il 4,3% dalla Versiglia e il 3,2% da un territorio che non rientra nell'area dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest. Una sorta di migrazione che ha permesso al presidio apuano di superare già al 25 ottobre la soglia dei millenati dall'inizio dell'anno. Secondo i dati anche l'ospedale Versiglia ha una buona capacità di attrattiva, ma qui, oltre due terzi delle neomamme, il 69%, è versigliese DOC. Da fuori regione arriva il 7,8% delle partorienti, mentre il 6,8% delle neomamme è originario della zona delle Apuane, il 5,4% della Lunigiana, il 4,2% della Piana di Lucca e c'è anche un 3,1% di neomamme livornesi. Bene, con questo si chiude la pagina dedicata alla Versiglia Costa Puana del TGNO. Io mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie.